E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video Ragazzi già lo sapete lasciate subito un pollicione in su su questo video per supportarmi E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate Oggi un video di Fortnite dove ho giocato insieme a Kekobomba E mannaggia a lui, mannaggia a lui vedrete cosa ha combinato Perché mi ha stilato una kill che non mi ha permesso di fare le 20 bombe Ecco se così si può dire Comunque ragazzi vi ricordo di seguirmi tutti i giorni su Twitch dove appunto mi trovate in live streaming Dove porto Fortnite, Among Us e comunque sono insieme a voi per 8 ore almeno tutti i giorni Il link lo trovate qui sotto in descrizione di Twitch E poi ragazzi vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram dove comunque vi tengo aggiornati tutti i giorni tramite le stories Ed è anche l'unico social che utilizzo per condividere le vostre stories Perché chi utilizza il mio codice creatore Coratomist nell'item shop e mi tagga nelle stories Io appunto ricondivido chi mi tagga e chi ovviamente compra con il mio codice creator Quindi ragazzi già sapete tutto in descrizione Adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al video Quindi ragazzi una buona visione Ciao 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 Eh, si, da questo problema. Senza perché ci piace nemmeno parlare. Morto una, morto un'altra. Che fai che a f*** la metta di me sempre? Eh, non hai capito. Gli dice, canto, fai intergraphics, non lo faccio impostazioni per mettere. Eh, impostazioni, che coso. Massa, oh. Ce ne vuole, mamma, se sei morto da questo. Non lo so. Chi ha? Vuole? Eh, dovresti aprire le impostazioni, ma non so perché non te le fa aprire i brutali. Ah, p***a. Vuoi venire un attimo sul Discord di... C'è una boggianata. Aspetta. No, no, Discord è orribile, è orribile testa. Allora, aspetta. Eh, cioè, è meglio, secondo me, di essere. Vado io. Sì, qual'è il tuo problema? Ecco. White. Ha dovuto avviare come amministra, pure che. Ah, ok. Allora, è modificato. Un'accato? Ok, l'ho fatto qua. Infon, 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 no. Playback mod, vedi? Mi devo fare la cura, però, Martino. È tu, qual'è? White. Tutto, eh? Capito. Capito. Atti, ma tu mi hai lasciato un medico. Allora, capito. Sì. Eh, dov'è? Eh, che ne so che è qua. Discardo, discardo, discardo. Compasso, vedi? Devi scegliere il tuo microfono. Non so qual è il tuo. Eh, ok, ok. Andiamo a te in playback. Morto, morto. È bravo. No, la bolla non va. Ah, se tu toglie listo? Vabbè, no. Eh, la chi? Vediamo se... Se vediamo se... No, è chiuso, è chiuso. Perché c'è gente qua. Bella, mi chiede la serpa. Sì, gente, 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 gente. Eh? Forse ballano. Ballano, 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 vini. Tutto bene, ok? Per di me. Fallo. Morto? Ma ci credi? Che comas, è sempre a pecorella. Eh, calla. Miiii. Oh, io solo quando gioco a te sono sempre a pecorella. Vabbè, ma è colpa mia. No, no, non è colpa. Bello, dai, grazie per il follow. Vieni qua, devi fare il big e ce ne andiamo con il cioppa. Ok. Dai, 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 dai. Eccomi, eccomi, eccomi. Fatti il big. Mezzo dico qua. Tutto proprio. Allora, andiamo. Come on. Oh, c'è uno qui. Questa se non sdaffi, eh. Distrutto. Ma sei stupido, brain dead, bro. Ando qua, dai. Ceramente. Dai, Giovanni. Oh, Martì. Aspetta, voglio andare dall'amico. Comunque, di masserire il rank è comunque una competizione dell'automia. Vabbè, vabbè, vabbè. Beh, la pezzogna non l'ho sfonato, dove? Vai, che coi. Vabbè. Venti, quattro è blu. Ho sbagliato, sull'arco. Aspetta, sei blu? Sei morto? Vaffan bro, l'imbecille. Lo sbagliato, non c'è. Fate questo. Basso, basso, basso. Come? Fate lo sverdikit. Mi ringrazio, prego. Ok, medikit. Allora. Oh, prende poco. No. Male, male, male. Oh, ok, fatti i medikit che si bussiano a me. Ok, ok, ok. Lì, 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 lì. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, fai. Bello questo. Guarda il mio. Vabbè. Guarda, io, io. Non ho parole. Armani. Ok. Marta, 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 Marta. Dopo una vita, dove sei scaricato? Eh, ho capito. 24, 36. 24, 24, 24, 24, 24, 24, no. 25, metto. Marika, secondo te, Matteo. 20, 25. Vabbè, è su meno 25. Sì. Bella, dago, grazie. Bella a tutti, raga. Dopo, vi ringrazio. Una schifetta. 36, bianco. Leo. Niente, continuo a sentirlo, non so. Ho diventato attaccato al blu. Vabbè, Marta. Noc. Marta, Marta, Marta. Grazie, Marta. Io sto a meno 25, ho messo. Metti meno 40. Qua, che c'ho? Arriva, arriva, Marta. Poi arriveremo a brutto almeno 100. Marta, ma posso lasciare una pallona a faccia? Sì. Vai, vai, vai. Vai qua. Vabbè. Ok, sono tre giardini. Devi giocare bene, che c'ho quanto questi. Ok, ok. Ok. Niente, c'è scurito. 31, 31, ha dato scelto a quello là. Ok, il problema è che non c'ho mezzo, vabbè. Cagate tutto, ok? Assolutamente col Fabio. Ando a me? Assolutamente. Arri? Non è il mio. L'hanno ciso gli altri, non ho fatto niente io. Stai? E me l'hanno anche silato e sto per la sigara. Hai messo meno 40. Ah, c'hai il potere deserto, no? Yes. Mi sa che uno è qua nel bush, comunque. Ecco, dietro, dietro, dietro. Se ne veniva un certo di che qua. Il suo microfono è il controller in sé. Ammazzoni, metti questo. Stai porco, giuro, mi sono fatto male. Lo sfondo in me. Arri? Arriva, ammazzoni. Vola, vola. Mamma mia. Ho attivato proprio l'hack qua, per caso. E c'è il microfono. Oh, grazie per lo spasso. Da dove? Non ne so. Ti fidi di me? Vedi sto bush? Sì, c'è? Che non è possibile. Non è che da sopra hanno fatto la skybase, no? No, 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 secondo me è qualcuno nel bush. Ok. Oh, se l'ammazzo 25 ne faccio 20, però sarà difficile. Ma quanto di kill c'hai? 15. Ah, c'ho... Beh. Ah, no, non posso, non posso, non posso. Facciamo 20 insieme. Ah, il gamba. Te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto. Arrivo, arrivo, martì, arrivo. Calma, calma. Ci penso io. Lo sapevo. Sono Gucci, sono Gucci, sono Gucci. Morto? Ah, va a te. Io te l'avevo detto, che secondo me... Secondo me... La stima, in teoria. Sì. Arriva. Che come, a te si aveva uno shield, ora? Fatti questo. Sì, me la c'è. Sì. Ma da nado? Che ne so. Uri. Vado. 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 23. La palla. Knock. Let's go. Vabbè, 19 bombe, 19 bombe. È da canile, è da canile. È finito? Io sto finendo proprio al po' Gigi, Gigi, Gigi. Allora, aspettavo. Questa è da super canale per Martino. Questa è da canale, 19 bombe. Tu ne hai fatta una. E quell'una era quella che mi serviva. Senti, per fortesia. Vai, vai, vai. Vai, vai.